Il desiderio ovviamente è arrivare a avere continuità, perché credo che l'allenatore lo più importante che deve avere è una continuità, perché è la maniera migliore in cui uno può migliorare anche. Non sto per dire guarda, mi piacerebbe allenare questa squadra o quell'altra. Uno ha della debilità evidentemente per quella squadra che ha giocato anche. Il cuore senza dubbio andrebbe sull'Alasio, l'Alasio è stato un posto molto importante in quanto a quello che mi ha dato la gente, quello che mi ha toccato dare a me come giocatore e l'Inter sicuramente potrebbe portare i giocatori più importanti e come allenatore sarebbe meglio. Però per una questione del cuore evidentemente con l'Alasio ha rimasto qualcosa di più che veramente neanche io riesco a capire alle volte, perché è veramente troppo forte. Qualche giorno allenerò anche l'Alasio.